Ripristino del decoro di uno dei biglietti da visita del comune, la sede municipale, una sistemazione in chiave green per i restauri iniziati nella casa comunale di Castelgomberto che comprenderanno una serie di interventi da rifacimento della facciata rovinata e aggredita dalle muffe alla sostituzione dei serramenti con quelli di ultima generazione finalizzata al risparmio energetico. Si tratta di un restauro conservativo essendo un immobile che ha più di 50 anni e quindi vincolato al parere della soprintendenza. Progetto realizzato con un investimento di 190 mila euro da parte del comune grazie ad un contributo del governo di 70 mila euro. Questo è tanto reso possibile perché abbiamo ottenuto un contributo finalizzato appunto al risparmio energetico, al miglioramento delle performance energetiche della struttura e grazie a questo riuscivamo a rispondere anche ai tanti cittadini che spesso volentieri mi dicevano che il comune aveva effettivamente bisogno di come si dice da queste parti di lamande colore perché è anche un po' un segno d'orgoglio della cittadinanza avere una casa comunale che abbia insomma un certo stile e una certa pulizia.